Le regole di raccogliere per l'America Cup Il giorno prima di ieri, le regole di raccogli erano finalmente. Abbiamo potuto leggere le regole e vedere come sono diversi delle regole di raccogliere. Prima dobbiamo cercare che c'è una limitazione sulla configurazione di yacht, quindi come i yachts devono raccogliere nei diversi eventi. Il primo problema è che devono declarare il stato di yacht, quindi la configurazione di yacht 5 giorni, o probabilmente 3 giorni in questo caso per la regatta di Christmas, non lo sappiamo ancora, 3 giorni prima della raccogliere. La configurazione di yacht è fatta da un hull di yacht, quindi il hull dovrebbe essere questo e non dovrebbe essere modificato durante la raccogliere. Sì, probabilmente sarà il numero 2 per ogni squadra, anche per il fatto che tutti hanno demontato il numero 1, quindi probabilmente il numero 1 non è pronto a competere. Esatto, probabilmente tutti potrebbero declarare il numero 2. poi nella configurazione di yacht c'è il mast, quindi dovresti cercare quale mast stai utilizzando, che è un design, tutti i fili, quindi i fili, 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 i fili in generale, e i fili. Quindi tutti i fili, i fili, i fili, i servizi, i fili e la custom, ogni team ha. Quindi selezza un filo che sia ok per il forte vento, quindi non è permesso per cambiare i fili a dipende sul calcio di quel giorno per esempio era per l'ac50 quindi lo scelgo per l'evento non per tutti gli tre eventi ovviamente ma per questo evento sarà questo quindi in realtà questa è una regola stricte ovviamente puoi più o meno sapere come il calcio sarà se sarà più vento o meno vento quindi probabilmente puoi scegliere tra più o meno più e meno piccoli ma saranno attaccati a loro per tutti gli eventi quindi bisogna questi fili per essere abbastanza aperti a ogni condizione possibile quindi non potrebbero avere alcuni punti sicuramente non potrebbero essere estremi sicuramente ancora avete, per l'altra parte avete ancora i sali per compensare potrebbero essere l'evento di un calcio se avete un calcio molto lino per esempio adattato per un vento poi puoi scegliere a rinforzare in una rinforzata con una migliore sali magari potremmo rinforzare il calcio sul calcio semplicemente più facile esatto ma poi ovviamente perdete qualcosa sul top speed per sicuramente esatto quindi non c'è limitazione di quali sali bisogna di dichiarare quindi non c'è un numero di sali che dovresti dichiarare per l'evento c'è in realtà una limitazione a priori quindi dovresti costruire solo 10 sali un paio di sali esatto 10 paio di sali e 29 sali tra i sali e i code 0 sì quindi ovviamente la maggior parte sono già costruite e sono anche utilizzate per trattare e tutto quindi anche per l'evento il numero di sali non è così grande ma in ogni modo puoi chiedere di usare quali dei 10 sali e quali dei 29 jeep possiamo pensare di due o tre di sali che sono distruti o non utilizzabili e magari alcuni altri più usati e poi alcuni nuovi che o anche non non usati come hai detto quindi possono anche usare alcune usate sali per l'evento che non contiene tanto per i punti e per il progresso del volto in l'evento per l'evento per i target il team New Zealand è il defender che può usare in teoria materiale più usate non non contiene nulla perché sono già in finale ovviamente ma poi hanno bisogno di mostrare che sono potenti che sono vele e che possono tracere tutti questo è il problema per loro quindi se perdono troppo molti raccoglie poi si ranno in un po' problem perché la situazione in New Zealand non è così quieta come possiamo pensare come abbiamo visto negli mesi mesi esattamente quindi hanno bisogno di mostrare che sono una forte squadra in la scelta di materiale hai un disavantage che c'è una scelta di giorni che include due giorni di pratica come free pratica o qualcosa come questo e tre giorni dove c'è una rata per ogni team questo significa due match per il giorno questo è molto utile per chiedere il materiale quindi tutti possono testare contro gli altri modi finalmente non non già testano ma bisogna hide questo tipo di testo ma comunque ora sono spettati perché queste training sono supervisate dal comitato esatto quindi bisogna di decliare la configurazione prima del ultimo giorno di regatta se mi ricordo bene e so hanno tutte le sessioni e due giorni di regatta per vedere come stanno facendo quindi competiranno con due altri team e so possono decidere su domani se la configurazione è buona o se bisogna cambiare qualcosa per la Christmas Cup compito compito contro gli altri competitor tre giorni di rinforzo per ogni bot si incontrano l'unico quindi non problema sarà giusto per decidere cosa è meglio la buona notizia è che anche le instruzioni sono stati pubblicati finalmente quindi ora sappiamo veramente come la raccoglienza sarà riuscita quindi esattamente la procedura iniziale e anche come i banderi sono spiegati e così on ci sono alcuni punti interessanti in questo uno è il concetto di platform border che è un tipo di rombus sullo spazio che ha i suoi vertici sul basso e l'alto del volo e ha i suoi altri vertici sulla posizione più aperta del volo questa sarà la superficie che sarà considerata come il spazio occupato dal volo durante il volo quindi sulle marki, sulle fronte e così on sempre sarà questo rombus che toccherà un barter e toccherà una marka e così on sulle fronte di questo rombus ci sarà una fronte di 2 metri che sarà considerata quando i bambini incontrano quindi solo quando un bambino incontrano l'altro bambino esatto, quindi abbiamo già conosciuto che la fronte che stanno chiamando la piattaforma di keep clear la piattaforma di keep clear la retta che sta nella corso è più ampia che la ballata abbiamo conosciuto questo quindi è anche abbastanza intelligente perché ovviamente i suoi PREG western non sono mai qui per toccare l'altro e per ridurre l'altro team è solo 4 metri da un filo al l'altro, è il risultato del risultato esatto, non è così molto, e la buona notte è che questa linea non è considerata sulla fronte del volo e sulla torta del volo, quindi non vicino al volo e dopo quindi in realtà puoi cercare di overlappare il volo, iniziando da un sterno esatto, solo seguendo il volo e faccio i normali maniuvri senza essere 4 metri dal volo che l'altro volo e anche se puoi cercare di perdere l'overlappare da passare solo la parte del volo, quindi è molto molto interessante e è buona notte, perché da un lato è molto sicuro per tutte le persone involucrate, ma ci permette un po' di raccogliere quindi buona notte per la raccogliere come sempre, le decisioni smart normalmente lead a buoni raccogliere, questo è dal comitato. Poi, la procedura di iniziata già conoscevamo, era dovuto essere circa 3 minuti, sarà 3 minuti una notte, poi la preparazione sarà 2 minuti, ma il volo porto può entrare l'area iniziata 10 secondi prima di starboard il volo esattamente, questo significa che ovviamente c'è un po' più avvantaggio nel volo porto che è penalizzato ma ha un po' di vantaggio per compensare la vantaggio di porto il volo porto ma comunque, l'avventaggio di iniziata sarà sicuramente per una difficoltà procedura di iniziata quindi il volo porto sicuramente competirà per ottenere la buona parte dell'area di raccogliere e anche cercherà di portare l'altra volo fuori 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 molti scenarii per match raccogliere molto più interessanti che fuori fuori per la catamarans fuori 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 in una posizione in cui non si può staccare e sono forciti fuori 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 esatto ci sono penalti che possono essere ovviamente dato da un botto all'altro e se iniziare con un penalti ti forniti 50 metri dietro l'altro canale quindi donare l'altro un penalti è uguale a iniziare 50 metri prima quindi non buono non buono lo stesso succede quando hai un penalti preso sul mark rounding per due canali quindi non quale canale è ahead il canale penalizzo deve essere 50 metri dietro questo potrebbe anche significare che il penalti deve aspettare per l'altro per essere overtaken e poi aspettare fino che gli empires chiedi che sei in la posizione per andare a correre ancora esatto a full speed quando c'è un penalti durante la leg succede che perdite 50 metri compared to tua posizione l'altro interessante factor è che hanno dichiarato la zona prima le fronte ci sono due fronte fronte che sono forcati ad essere dentro quindi sono considerate come obstacolo e 90 metri dentro queste fronte sei in la fronte zone quindi le regole cambiano un po' rispetto alle regole quindi l'inzio must be given the must be given exactly so so you can start hailing when you reach you reach this zone that's important because obviously if you try to tack earlier then you have the chance to gain some room from the other boat to avoid overlap in the subsequent tack before reaching the the boundary itself and risking to go out of the boundary so so you can like slow tack to be a little bit more too windward compared to the other boat so you you avoid maybe the overlapping for the next tack so it will be interesting to see how the teams will manage this if they start giving space and how they are giving space because the boat which is preventing the other one from avoiding the boundary this boat has to give room so this means that if the boat with this keep clear platform let's say can pass behind for example the starboard tack opponent then this yacht has to do so anyway exactly so nothing changes the other interesting fact is they have the normal let's say three lengths more or less it's now 70 meters mark room but the the mark is considered let's say uh wider from a radius of seven meters so the boat shall stay outside a circle of seven meters radius from from the pole of the marker which is precious which is precious yeah and they will be for sure strange boys uh we saw them a little bit and the organization is concerned to lose them for for a ball split or something or for a foil or cut by a foil so exactly that's why and then this allows most probably uh to stay on the foice more easily you know exactly less sharp turn then it's it's obviously easier for the yachts exactly easier and also avoids probably uh some uh let's say difficult maneuvers because the the better way maneuver done uh very quickly uh can cause a lot of instability no so they don't want to risk probably also uh that anyone can bear away too quickly and lose control of the boat uh this is the funniest moment for foiling yacht is normally the better way maneuver the race format seems to be very fun we will see in a couple of weeks how this is but from the the 8th of december that is the first official practice let's see what happens ciao ciao